Sarà la volta buona? Sarà la soluzione che creerà la pace tra Capannori, Lucca e associazioni di categoria? A primo impatto sembrerebbe proprio di no. La controproposta all'ordinanza Via L'Europa presentata dal prefetto Alessio Giofrida in occasione del tavolo tecnico pare infatti non aver riscosso un alto gradimento. Il comune di Lucca e le categorie si sono riservate di prendere una cosiddetta pausa di riflessione, mentre il primo cittadino capannorese, autore dell'ordinanza della discordia, soddisfatto di non sentire più parlare di possibile annullamento del provvedimento, sostiene la proposta del prefetto, ma ovviamente a patto che gli autotrasportatori siano favorevoli. Ma nel dettaglio cosa prevede la proposta del prefetto? In sostanza la suddivisione in tre fasce orarie e la riduzione a sette ore e mezzo del senso unico alternato dei mezzi pesanti lungo il Via L'Europa. Mentre adesso il blocco Garfagnana-Piana va dalle 7 alle 14, in caso di approvazione della modifica lo stop rimarrebbe solo per 5 ore, ovvero dalle 7 alle 10 e dalle 12 alle 14, via libera quindi in entrambi i sensi di marcia dalle 10 alle 12. Nel pomeriggio, ora la circolazione in direzione nord è vietata dalle 14 alle 24, il blocco si ridurrebbe invece a solo due ore e mezza, ovvero dalle 16 alle 18 e 30. Insomma la modifica c'è, dato che sulle spalle dei camionisti graverebbero ben 10 ore e mezza e meno di divieti. Ma qualcosa continua a non convincere. L'unico ente che invece sembra apprezzare la proposta e il possibile passo indietro di Del Ghingaro è la provincia, che si augura di arrivare ad una mediazione. Mediazione che se non arriva potrebbe vedere il comune capoluogo alzare la barricata annunciata, ovvero uno stop ai tir anche sulle strade del territorio lucchese. Mercoledì potrebbero arrivare le prime risposte.